Ben trovati amici, qui siamo vicino a Italia Legna e andiamo a trovarli, oggi fanno dei lavori un po' particolari, lavori un po' pesantucci, in altri attaccati. Grazie. 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 Abbiamo visto la lavorazione dei tagli a legna. Un lavoro abbastanza complesso e impegnativo. Il nostro video termina qui. E ci sentiamo alla prossima. Ciao 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 ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao. Ciao ciao. Ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.